Tudor Black Bay 36, l'orologio da polso che esprime l'eleganza senza tempo. Il Tudor Black Bay 36 mm fa parte della collezione Black Bay, una delle linee più iconiche e apprezzate del marchio Tudor. La collezione Black Bay si ispira ai modelli storici di Tudor, in particolare agli orologi subacquei che hanno fatto la storia dell'orologeria. Il Black Bay 36, tuttavia, si discosta dagli altri modelli della collezione per il suo design sobrio e senza tempo, che lo rende un compagno ideale per ogni occasione. Il Black Bay 36 mm è un modello che si ispira agli orologi da polso classici di Tudor, che hanno caratterizzato lo stile del marchio dagli anni 50 agli anni 80. Il Black Bay 36 riprende la forma della cassa e il diametro di 36 mm, che erano tipici di questi orologi. Il Black Bay 36 ha un quadrante minimalista e pulito, con solo gli indici luminosi e le lancette snowflake di Tudor. Il Black Bay 36 ha anche un bracciale integrato, che si fonde perfettamente con la cassa e che ne esalta la linea armoniosa. Con un diametro di 36 mm, la cassa presenta dimensioni perfette che si adattano a qualsiasi polso. L'equilibrio tra raffinatezza e sobrietà è enfatizzato dal quadrante minimalista e dagli indici luminosi, che conferiscono all'orologio un'aura di eleganza senza ostentazione. La cassa dal profilo sottile e la lunetta catturano lo sguardo senza distrazioni, mentre la scelta di materiali di alta qualità evidenzia l'attenzione alla costruzione. Uno degli aspetti più affascinanti del Black Bay 36 è la sua versatilità. L'orologio si presta a essere abbinato a diversi tipi di bracciali e cinturini, a seconda delle preferenze e delle occasioni. Si può scegliere tra il bracciale in acciaio inossidabile, il cinturino in cuoio o il cinturino in tessuto, che conferiscono all'orologio un carattere diverso e unico. Un altro aspetto che rende il Black Bay 36 un orologio da polso eccezionale è la sua qualità tecnica. L'orologio è dotato di un movimento meccanico a carica automatica, che garantisce la precisione e l'affidabilità del tempo. Il movimento è certificato dal COSC, Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri, che ne attesta la qualità e la performance. Il movimento ha una riserva di carica di circa 70 ore, che permette di indossare l'orologio per diversi giorni senza doverlo caricare. Inoltre, l'orologio è resistente all'acqua fino a 150 metri, che lo rende adatto anche per le attività acquatiche. Se stai cercando un orologio da polso che sia al tempo stesso raffinato e funzionale, il Black Bay 36 è la scelta giusta per te.